Due anni fa, più o meno due o tre anni fa, definivano complottisti oppure gonplottisti, chissà perché con la G, sostituendola alla C, probabilmente per significare nella denigrazione della narrativa di regime che coloro erano praticamente dei semi analfabeti. Ebbene, purtroppo si stanno realizzando un po' tutte queste che possiamo considerare oggi delle vere e proprie profezie alla Cassandra. L'ultima, la più veramente, la più temibile, la più perniciosa, è quella che accade oggi nella vicenda della narrativa che si individua non solo nei giornali, tutti i giornali italiani, anche quelli locali, ma anche nelle televisioni. Parlano come niente fosse della vaccinazione dei bambini, quindi vaccinare i bambini dai cinque anni in su, giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini.